Ciao a tutti, oggi sono a Corogoccio con Jenny, la nostra assistente sociale. Siamo venuti a visitare la famiglia di Hope, un bambino sostenuto a distanza. Siamo venuti a portare Lunga, che è la parina proteica con cui viene cucinato Lugali. Mama Hope, come va in questi tempi? Siamo venuti a casa, perché la Covid-19 mi ha affettato, la mia famiglia. Ho perduto il mio lavoro e anche il mio padre. E posso ringraziare Alice for Children, perché mi ha aiutato molto a dare questa vita. Mama Hope ci ha detto che durante l'emergenza sia lei che il marito hanno perso il lavoro, lavori che erano comunque occasionali e quindi altamente instabili. E ho ringraziato Alice for Children per il sostegno in termini di cibo che le ha fornito e che le sta ancora fornendo e che continuerà a fornirle nei prossimi mesi. Proprio perché le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus sono state estremamente severe.